Via 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 Maldita Tumera Rimán Dimán Sì saprò Trento Non Id 생 È aperto il bar? Un guerriere così cotardo Ah No, ma è Lady Macbeth! Il 30 giugno qui, con Macbeth ha ucciso il sonno! Ah, verrò sicuramente, eh! E' proprio bravo! Ma brava, brava! Una birra? Per vergogna! Por su! T'ha fretta! Eh, niente! E ma quanta fretta! Dove corri? Eh? Dove vai? Ah, il canto è una volpe! Eh, sì, questa volta non lo sono scaricato il programma. Dunque, mercoledì il gatto è la volpe con Mario Rodi e Mario Maschitelli. E invece, giovedì, ci sarà ricette da favola con gli attori del teatro del cerchio e venerdì l'incontro sconfiggere l'occo, come sconfiggere con le favole le paure. Giusto? Cessa, De, cessa! Oh! Oh! Allora, look! Allora, orata, orata! Opa! Entrevittime! Quinta, da! Veja!